Abbiamo parlato in queste prime ore di digitale e abbiamo visto i numeri, quindi dai numeri partiamo come sempre e possiamo capire forse anche come crescere. Abbiamo invitato tre persone che fanno un lavoro diverso in ambiti del tutto diversi, il primo è Simone Pucsic che avete già conosciuto e che già conoscete, ci ha raggiunto poi il presidente dell'autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino e invito anche Bruno Bertero che è il direttore marketing di Promo Turismo e FWG. Raggiungetemi pure qua, microfoni per tutti, là ce ne sono due, eccoci. Allora fate lavori diversi e siete anche in settori diversi, l'elemento comune da cui partirei sono i numeri, i numeri che abbiamo visto prima dicono che negli ultimi cinque anni le imprese regionali che sono nell'ICT crescono, le imprese in generale no. il caso del... uno può pensare cosa c'entra un porto che ha le navi e i treni con il digitale anche se Racchiani prima citava un esempio che toccava da vicino. Allora chiedo innanzitutto a Zeno D'Agostino in che modo il digitale c'entra col lavoro che fate in porto. Ma la prendo alla lontana, poi magari parleremo anche di quello che ha detto la Presidente prima che è un progetto su cui stiamo investendo insieme anche a INSEAL, quindi da questo punto di vista c'è un lavoro con Cisco che ci sta portando ad approfondire alcuni temi. La prendo alla lontana perché uno dei potenziali attori più importanti in questo momento nel mondo dello shipping, tutto virtuale, quindi stiamo parlando di fantascienza ma comunque dichiarata, è per esempio Amazon, non so se c'era qualcuno qui in giro ma Jeff Bezos in una intervista di aprile scorso che sono andato poi a rileggermi e quant'altro parlava del fatto che è stufo tra virgolette di questo strapotere delle grandi alleanze dello shipping che oggi impongono tra l'altro probabilmente anche delle scelte sbagliate fatte dal punto di vista loro di investimento su questi giganti del mare che non è detto che poi abbiano effettivamente un reale riscontro con quella che è la situazione di sviluppo dello shipping, parliamo di container fondamentalmente e quindi essendo stufo di quella situazione e avendo elementi di riorganizzazione della catena logistica che naturalmente Amazon vede in maniera molto più futuristica rispetto a qualcun altro, vuole riappropriarsi di quello dell'anello della catena che è lo shipping intercontinentale del trasporto dei container tra continenti, quindi fondamentalmente la piattaforma industriale che è la Cina e poi naturalmente i mercati di riferimento più importanti che sono l'Europa, Nord America e quant'altro. Siccome lui fa svariati miliardi, non ricordo quanti, ma mi sembra più di 10 miliardi di dollari all'anno di utile, dice io prendo un paio di questi miliardi, visto e considerato che per altri le barriere all'entrata nel mondo dello shipping sono molto alte, tant'è che è fondamentalmente un oligopoglio in mano a pochi soggetti che tra l'altro poi dopo si ulteriormente riconcentrano in alleanze, vado e compro qualche nave, mi riorganizzo io la catena logistica, non faccio l'errore che è stato fatto, visto che è un errore che oggi le compagnie stanno pagando, ma il mondo fondamentalmente, tutto il mondo dello shipping sta pagando questa rincorsa al gigantismo navale che ha creato economie di scala sulle navi, ma ha creato diseconomie di scala sulla gestione terminalistica e logistica a terra, quindi poi secondo me non è detto che il bilancio sia positivo e quindi non faccio quell'errore, mi compro le mie nave, mi organizzo le mie catene logistiche e poi naturalmente l'intervista finiva in maniera molto fantascientifica, con i droni che andavano a consegnare quant'altro. Però fondamentalmente l'elemento che volevo dire e che volevo secondo me inserire in un dibattito di questo tipo, ma penso che si è, veniva anche appena adesso testimoniato, o si utilizza la tecnologia per riconfigurare il modello di business oppure la tecnologia non ha senso, cioè la tecnologia fondamentalmente ti deve dire se fino a ieri ho lavorato in un certo modo, adesso ragiono in un modo diverso, non è che devo solo al posto del fax utilizzare la tecnologia, tutte queste belle cosettine qua che insomma lascerei ad altri ambienti e ad altri periodi. Quindi il mondo dello shipping, il mondo della portualità e anche poi entriamo un po' nei temi più vicini a quella che è l'attività che stiamo facendo, devono permetterti di riconfigurare il tuo modello, nel caso poi di soggetti come il nostro che sono enti pubblici, la cosa diventa ancora più sfidante da questo punto di vista e quindi io ritengo che la tecnologia questo senso deve avere, quindi anche il progetto con Cisco che fondamentalmente entra però in anelli diciamo più operativi, quindi va anche un po' spiegato cosa fa un'autorità portuale, cosa c'è nel porto, noi comunque siamo il soggetto che gestisce la realtà pubblica, la realtà complessiva del porto e poi ci sono i singoli terminalisti che hanno poi... Esatto, volevo chiedere su questo, domanda breve, risposta il più possibile, come reagiscono i terminalisti a queste sfide? Ma allora va detto una cosa, questo è un mondo molto globalizzato, quindi è chiaro che quando tu parli con un terminalista al porto di Trieste fondamentalmente fa riferimento in 90% dei casi con soggetti globali, quindi non ha nel potere decisionale e fondamentalmente quando si ragiona di tecnologia probabilmente deve adottare degli standard che vengono decisi da altre teste che sono in altri ambienti. Quindi i margini comunque di manovra su questa tipologia di progetti vanno in qualche modo contestualizzati al fatto che possono essere anche molto entusiasti delle idee, poi però in molti casi devono rispondere a configurazioni che hanno sedi dall'altra parte del mondo per esempio. Però ecco in questo caso probabilmente allora diventa fondamentale invece come l'autorità portuale reagisce a iniziative di questo tipo perché tu sei quel soggetto che crea il contesto operativo in cui poi si inseriscono i soggetti privati e naturalmente avendo a che fare con grandi multinazionali più il contesto è tecnologico e avanzato e probabilmente diventa un contesto appetibile per chi poi decide quale deve diventare il suo porto di riferimento e quindi diciamo che secondo me torna ad avere ma soprattutto oggi un ruolo più importante del pubblico se è dinamico naturalmente, se è propositivo, se vede e si anticipa quelle che sono le tendenze perché poi a quel punto crei l'ambiente adatto per poter catalizzare interessi privati. Infatti ambiente o piattaforma se vogliamo chiamarla così in porto si parla più di piattaforma logistica ma adesso la piattaforma invece è anche quella digitale in cui un operatore può lavorare e questo porta o almeno dovrebbe portare in tempo zero dall'operatore alla commercializzazione. Questo sembra un salto enorme ma in realtà chiama Bruno Bertero in causa perché il lavoro che sta facendo lui ha invece a che fare con operatori che sono diversi da quelli che conosce D'Agostino perché ovviamente hanno strutture diverse, spesso familiari, tradizione, però il passaggio da piattaforma o meglio il bivio tra piattaforma obbligata o commercializzazione diretta è quello che poi anche fa la differenza in un bilancio di un albergo, di un ristorante. Come gestire questo bivio? È la vera sfida, è la vera sfida anche perché proprio recentemente, la scorsa settimana, preferisco partire un po' da distante ma per rendere l'idea, sono stati presentati i dati della commercializzazione online a proposito del turismo e tra il 2014 che rappresentavano circa il 17% del valore transato complessivo valore italiano siamo arrivati nel 2015 al 20%. Di questo 20% il 73% la fa la parte del leone il trasporto ma il 14% è tutto il settore ricettivo ed eccomi agganciato immediatamente alla risposta. Questo è un trend in crescita e questa è una attività che diventa primaria per non solo la destinazione turistica che vuole posizionarsi sul mercato e qui è la prima parte, la destinazione si posiziona sul mercato, dopodiché il cliente accede alla destinazione e sceglie cosa acquistare e come acquistare e qui si aprono i bivi nei quali clienti lavora perché si trova di fronte a un'offerta che è un'offerta ormai accorpata, aggregata e questo lo facciamo attraverso una tecnologia, attraverso un portale, 20 destinazioni italiane quindi 20 regioni, 21 regioni si trovano ormai con portali di destinazione nel quale hanno un'offerta. Quest'offerta non è l'offerta che costruisce la destinazione ma è l'offerta che costruisce il singolo imprenditore e qui entriamo nell'argomento di alfabetizzazione digitale, non so se è un termine che non piace però per me è molto caro perché è il punto fondamentale. Oggi noi dobbiamo strappare alle Olta questa facilità di commercializzazione che hanno di un prodotto che è un prodotto locale ma che non siamo in grado di distribuire, i dati sono chiari, il 53% della commercializzazione avviene attraverso, il 54% attraverso sistemi di distribuzioni come Olta, un 20% attraverso sistemi di distribuzione che sono agenzie di viaggio, tour operator ma solo una parte percentuale minima attraverso il sito del singolo hotel o il sito della destinazione. Questo è il punto sul quale noi ci troviamo a dover gestire quotidianamente quelle che sono le nostre scelte perché il comportamento del turista ormai è cambiato nel momento in cui si crea un'ispirazione a una capacità di costruirsi la propria esperienza di viaggio in maniera autonoma e questo è il lavoro che la destinazione può aiutare a fare ma nel momento in cui ci si presenta di fronte al cliente il prodotto è un prodotto del singolo operatore. Qui è dove noi abbiamo la maggiore carenza e dove stiamo lavorando di più su due livelli. Il primo livello è quello legato alla costruzione di prodotto e pricing che sono strettamente collegati, tecnicamente sono attività di revenue management quindi io faccio posizionamenti in funzione di particolari momenti del mercato eccetera eccetera ma questo sarebbe già andare oltre. Quello che a me interessa qui evidenziare è che una volta identificato quello che è il prodotto e il prezzo il problema è poi come distribuirlo. Allora qui le statistiche sono leggermente diverse quelle nazionali con quelle regionali perché parlando con le grandi olta mi si dice che si arriva a un intermediato attraverso i loro canali nell'ordine del 45-50% che è decisamente più alto di quello che è il valore nazionale il che vuol dire che c'è un'inefficacia di quelli che sono gli strumenti classici. Il comportamento del cliente è sito di destinazione, sito dell'hotel, olta, comparazione dei prezzi, compro dove mi interessa. Quindi è chiaro che il lavoro grosso che va fatto è proprio in questa direzione. Come andare a utilizzare i canali di distribuzione in questa nuova forma digitale che abbiamo in Siel, il nostro partner quindi conosce in tutti gli aspetti quelli che sono le nostre operatività e le nostre attenzioni. Noi stiamo lavorando molto sui sistemi di distribuzione e su sistemi innovativi, channel manager, però qui si pone un problema e magari poi lo potremmo anche trattare in maniera un po' più diffusa. Una volta un albergatore aveva un problema, aveva un'opportunità che era quella di gestire la propria struttura in maniera accogliente. Una buona attività creava un buon passaparola, si consolidava il mercato e si andava avanti così tranquillamente. Poi dopo i nostri operatori, stiamo parlando di commercializzazione qui del prodotto ricettivo, ma potremmo farlo per tutte le attività, per i servizi, per tutta quella che è la parte dei servizi spiaggia, sci, visite guidate, accompagnamenti naturalistici, tutto quello che vi può venire in mente, quello che un cliente voglia fare sopra il territorio. Quindi una volta era sufficiente gestire il servizio, adesso gestire il servizio è solo la base di partenza, perché occorrono una serie di competenze differenti che sono quelli della commercializzazione, ma soprattutto della distribuzione. Noi qui possiamo intervenire, possiamo intervenire proprio aiutando i nostri operatori ad apprendere queste nuove forme di professionalità. È per quello che parlo di alfabetizzazione, che non è solo digitale, è una cultura nuova di approcciare il mondo turistico, perché il mondo turistico è in continua evoluzione e noi il rischio, ma questo non solo per la destinazione Friuli Venezia Giulia, ma per tutte le destinazioni in Italia, è che si continui a correre dietro e non si riesca ad anticipare quelle che sono le future strategie e i futuri cambiamenti che il mondo turistico ha. D'altra parte mi viene da dire il ragionamento con le OLTA, le agenzie di prenotazione online ti pone davvero al bivio perché rinunciare a quel mercato è molto rischioso. È bellissima questa affermazione, il problema è che quel mercato alle OLTA lo stiamo generando noi. No, no, è chiaro, è chiaro. È proprio questo il punto. Proprio perché siamo in una fase in cui, come citava anche D'Agostino, chi ha, D'Agostino citava Amazon in questo caso, chi ha il controllo della piattaforma non ha sempre bisogno di avere i taxi, ma ha la struttura per gestirli. È proprio questo il punto, sì, in effetti sono gli unici che non hanno proprietà nemmeno una stanza che vendono regolarmente tutti i giorni. Quindi questo la dice lunga. Si aprono diversi aspetti legati a questo argomento. Il punto principale però è che è un obiettivo importante per un ente pubblico. Quindi per Promoturismo FVG è un obiettivo. In Italia ci sono due sistemi di distribuzione che funzionano molto bene, regionali, che sono quelli del Trentino ma soprattutto quello dell'Alto Adige, che nell'arco degli ultimi due anni hanno disintermediato mediamente il 15% nei confronti delle Olta. Quindi vuol dire che le cose si possono fare attraverso un sistema che è un sistema di gestione di quello che è il prodotto. Poi dopodiché non potremo sottrarre quella parte così importante del 40, 35, 40%. Dici quello farebbe la differenza. Quello farebbe la differenza. Chiaro. A te tocca dare una mano praticamente su tutti i fronti, se ho capito, perché l'insiel di una volta era quella della testa della benzina, no? Esatto. Ok, ora la benzina... O di Ascot, o solo di Ascot. Ok. Ora il tuo lavoro è diverso. Io in realtà volevo chiederti una cosa, ma te la chiedo successivamente. Come si può lavorare da colosso con le realtà più piccole? Perché sia nel caso dell'albergatore che in altri casi che affrontate dovete a volte parlare con persone che non hanno la famosa alfabetizzazione. Allora, prendo anche io alla larga, parlo anche io da lontano. Intanto ti do il mio punto di vista. Secondo me oggi la crescita può essere solo digitale. Non vedo crescita economica se non legata alla digitalizzazione. Punto. Nella mia, diciamo, impressione da quello che vedo non solo in Italia ma anche fuori, insomma. E quando dico digitale intendo non solo software ma anche hardware, ma anche dispositivi, ma anche tecnologia, ma anche sensoristica. Quindi direi digitale comprende a 360 gradi tutte queste cose qui. Allora se dovessi citare l'esempio che faceva prima il presidente D'Agostino e parlando di Amazon, ieri proprio in intervento di questa scuola che facevo raccontavo un po' come Amazon sta cambiando il suo modello di vendita continuamente. Allora, se lo penso nel momento in cui l'utente affronta il portale, oggi trova degli algoritmi automatici che profilano il suo comportamento rispetto alle persone che conosce, con cui è legato e gli suggeriscono acquisti basati su questa caratterizzazione e fanno addirittura arrivare i prodotti vicino a casa sua prima ancora che lui li abbia acquistati. Nella concezione che lui li acquisterà proprio perché è suggerito da altri amici. Il magazzino per come è gestito oggi sono magazzini completamente automatizzati. Cioè, se tu vedi un video qualsiasi, cerchi magazzino Amazon su YouTube e ti vedi filmato, non esistono persone. È una cosa drammatica. Ti smentisco. Cioè, non ci sono, diciamo, non sono completamente automatizzati. Sono appena tornato da un magazzino di Amazon. A Piacenza? No, più lontano, ma insomma... Cioè, quello di Piacenza è un modello antico, nel senso che non ha ancora i robot. Quello che apriranno a Roma tra un anno probabilmente avrà anche i robot. Diciamo non è così internazionale rispetto al nostro lavoro. Il problema è che il pacco che viene movimentato dalla persona ci mette circa due ore ad attraversare il ciclo. Il pacco che viene movimentato dai robot è dalla persona perché da solo la verità è che domani parleremo poi anche di intelligenza artificiale, di autodriverless, eccetera, ma la complessità di creare una mano che tiri fuori un pacco è ancora molto elevata. Quindi la verità è che si crea efficienza e si mette efficienza finché si riesce. Il pacco che viaggia anche con i robot ci mette mezz'ora. Quindi quella è l'efficienza che vai a creare con sistemi del genere. Scusami sono... No, capisco la tua posizione e diciamo sposo una concezione del futuro che veda comunque l'uomo come fulcro diciamo dell'attività economica. Purtroppo... Diciamo l'uomo e la macchina. E la macchina. Ecco infatti non può essere solo macchina, ci sarà sempre l'uomo dietro. Purtroppo lo scenario che io vedo che si sta avverando è che purtroppo è molto... diciamo la velocità con la quale si realizza è esponenziale, non è lineare per cui avverrà molto rapidamente rispetto a quello che potevamo stimare solo qualche anno fa, vedrà l'uomo sempre meno presente in processi non diciamo standardizzabili o non automatizzati. Allora tornando sempre all'esempio di Amazon, la consegna viene fatta in quel modo per poi arrivare in uno scenario ancora più futuristico alla consegna con il drone direttamente fuori casa tua e quel drone potrebbe essere diciamo il risultato di un processo d'acquisto che non sei tu uomo ad aver generato ma una macchina intelligente all'interno della tua abitazione che chiede di acquistare qualcosa perché si rende conto che non ha necessità. Ecco questo è lo scenario che stiamo affrontando. Su mondo turistico è ancora più complicata la questione perché oggi internet è a tutti gli effetti lo strumento principale di reperimento di informazioni. Non ci sono altri strumenti. Cioè internet ormai è lo strumento. Allora se io devo informarmi, se devo fare una scelta la mia scelta è basata per il 98% delle cose rispetto a quello che io trovo online e quindi presidiare quel mercato soprattutto per un'agenzia come Promo Turismo ma in realtà per qualsiasi agenzia che voglia vendere prodotti o servizi diventa fondamentale. Ora tu mi chiedevi come fa un'azienda come la nostra a lavorare anche con imprenditori, commercianti o persone della pubblica amministrazione che poco ne sanno del digitale o sono poco propensi. Non è facile. Ovviamente mettiamo in campo una serie di azioni di sensibilizzazione, lo ricordava prima la Presidente, i grandi eventi che noi facciamo, queste grandi giornate per rimettere il focus dell'opinione pubblica sulle competenze digitali servono proprio per stimolare e per fare in modo che tutto il sistema, l'ecosistema come lo chiamano in Silicon Valley risponda. Quindi parlo dell'Accademia, parlo degli studi professionali, parlo delle imprese, centri di ricerca, la pubblica amministrazione. È importante che sia un'azione diciamo di sistema volta all'aumento di competenze digitali che permettano ai cittadini, agli operatori professionali di lavorare in maniera nuova e più al passo con i tempi. Perché tornando sempre al discorso di Amazon è vero che i magazzini oggi in Italia non sono completamente robotizzati. Ma se tu fai dei paesi dai quali arrivano i container che poi arrivano al porto di Trieste, penso alla Cina, penso a Corea, penso a Giappone, lì la cosa è completamente diversa. Qualche settimana fa leggevo un articolo di un'azienda che produce prodotti, 50.000 dipendenti, ne licenziano 40.000 e prendono macchine. 40.000 su 50.000 licenziati. Ecco, questo scenario qui diciamo è uno scenario sicuramente che va tenuto in considerazione e torno a dire oggi la crescita comunque passa da lì. Quindi per i nostri imprenditori saper governare questo e sfruttarlo oggi è la chiave di volta. La verità è che i margini, mi raggancio a quello che dicevamo per gli alberghi, ma i margini si fanno proprio sull'efficienza e l'efficienza è digitale. Il problema, questo non l'abbiamo ancora risolta, temo che non la risolviamo questo pomeriggio, diciamo, il come funziona il meccanismo che, è vero, porta a una crescita, però potenzialmente in futuro distrugge anche un posto di lavoro, per esempio. Volevo chiedere ad Agostino di raccontare in breve la piattaforma che dà informazioni agli operatori e anche quali usi potrebbe avere in futuro, perché adesso oltre alle navi in questa piattaforma che è una piattaforma interna ci sono anche i treni, no? Da poco. Sì, raccontavo prima, insomma, in corridoio, no? Che dal punto di vista tecnologico comunque il porto di Trieste è in una situazione abbastanza positiva. Noi abbiamo una piattaforma tecnologica che gestisce tutte le operazioni di spostamento, tra virgolette, della documentazione interna del porto. Quindi per riassumere, l'arrivo della nave viene comunicato attraverso la nostra piattaforma dall'agente marittimo alla capitaneria, tutti i servizi che poi servono, quindi pilotaggi, rimorvi, quant'altro vengono tutti gestiti attraverso questa piattaforma. Quindi questo significa che, essendo la piattaforma lo strumento con cui si lavora all'interno del porto, ma ti facevo l'esempio, insomma, io posso vedere in questo momento quali sono le navi in porto, cosa sta succedendo, dove sono ormeggiate, quelle che sono in arrivo, quelle che partiranno e quant'altro. Naturalmente, poiché il modello di business di cui parlavo prima, cioè la tecnologia mi deve alimentare modalità alternative, naturalmente più competitive, con cui io mi propongo al mercato o con cui io porto, creo un ambiente più competitivo in cui poter ospitare soggetti privati che poi operano, oggi noi non siamo più autorità portuale di Trieste, da qualche settimana, siamo autorità di sistema portuale dell'Adriatico Orientale, naturalmente lì dovremo lavorare un po' di marketing perché questi nomi che sviluppano a Roma non sono il massimo dal punto di vista del brand, però ecco, a parte questo, questo significa che noi siamo oggi porto di Trieste, un domani ci sarà anche il porto di Monfalcone, un domani molto prossimo, già oggi dal punto di vista informatico siamo un'unica piattaforma tra porto di Trieste e interporto di Farnetti che è già, tra virgolette, un satellite dal punto di vista logistico delle attività del porto, quindi tutto ciò che si muove tra porto e retroporto viene monitorato perché la tecnologia è la stessa, gli standard informativi sono gli stessi e abbiamo in corso in questo momento un progetto che abbiamo chiamato Railab 4.0, poi insomma lì sapete che ormai tutti chiamano lo stesso nome le cose e abbiamo convocato, tra l'altro Debora non lo sa quindi lì lo verrà a sapere, ma insomma abbiamo convocato i quattro interporti regionali, quindi Farnetti che è già parte integrante del nostro sistema tecnologico, Gorizia, Cervignano e Pordenone perché se si vuole essere sistema dal punto di vista logistico lo si deve essere prima di tutto dal punto di vista dei linguaggi, dal punto di vista degli standard tecnologici, per cui con loro stiamo condividendo questo processo che prevede un investimento da parte di tutti e quindi questo è l'elemento, l'elemento non è che si fa sistema per fare sistema, l'elemento fondamentale di questo ragionamento di network è quello dell'integrazione ferroviaria tra i cinque soggetti coinvolti. Tutto questo naturalmente all'interno di un quadro che è istituzionale, nel senso che da questo punto di vista c'è un'autorità di sistema portuale che si sta configurando, è anche societario, nel senso che tra un po' insomma noi abbiamo già delle quote di Farnetti, ma per quel che ci riguarda come Falcone entrerà nell'autority, con Farnetti andremo a consolidare questa presenza e non è detto che andremo anche poi a integrare questo tipo di ragionamento proprio in termini societari anche con gli altri interporti. Lo è dal punto di vista operativo con la ferrovia integrata, dove noi abbiamo un'unica società di gestione delle manovre ferroviarie che oggi lavora già al porto di Trieste, lavorerà a Farnetti ed è auspicio del sottoscritto che comincia a diventare poi invece soggetto che lavora anche nelle altre piattaforme logistiche della regione e quindi chiaramente la tecnologia sta seguendo uno scenario complessivo strategico che ha una regia che è quella del porto di Trieste e che naturalmente partendo dal porto di Trieste va a integrare tutti gli altri anelli del sistema. Per cui questo è uno dei progetti che stiamo facendo, i progetti con Cisco vanno più nello specifico invece nell'utilizzo di determinate tecnologie innovative che in questo caso sono applicate al porto di Hamburgo e che entrano invece nell'operatività fondamentalmente del terminal container e della sua capacità di integrazione con le supply chain di riferimento. Prima si faceva riferimento appunto ai container che arrivano da Cina, Corea e Giappone. Oggi noi abbiamo tantissimi, anzi è proprio un flusso nuovo che arriva dal Fariste, non è più solamente cinese ma per esempio anche coreano e giapponese nella filiera automotive, contenitori che arrivano al porto di Trieste. Noi abbiamo da un anno a questa parte, siamo partiti con il primo treno settimanale, quindi un treno alla settimana che andava su Budapest, oggi siamo a cinque treni a settimana, quindi ogni giorno c'è un treno che fa avanti, anzi due treni, uno che torna da Budapest, che diventano un anello fondamentale di una catena come potete immaginare complessa come quella dell'automotive globale di alcune compagnie coreane e giapponesi che hanno poi stabilimenti produttivi in Ungheria. Quindi noi siamo parti di questa supply chain e se non sei in grado di reagire con l'efficienza che soprattutto il settore automotive richiede, chiaramente fai saltare delle componenti che sono importanti. Io andrei avanti a parlare dei porti, della struttura, però non voglio annoia. So che la logistica non è nelle corde di tutti, qua la rendiamo pop, però la domanda che volevo fare a tutti e tre e così con questo chiudiamo, riguarda, noi prima abbiamo visto cinque esempi di realtà piccole o grandi ma comunque in qualche modo particolari, invece da voi abbiamo sentito un quadro molto generale perché ovviamente è quello che un ente, un'istituzione deve fare. E poi Nicola D'Avanzo è là, dice che su questo territorio ci sono anche soldi per fare le cose. Io non penso sia così e penso che sia così in Italia, non in regione. In regione è vero, ci sono gli incubatori, ci sono realtà, ma vista dai grandi, quali interventi, quali semi si possono lanciare in comparti diversi, Simone ha un sacco di esperienza, che gli viene dal di te, di prima ancora di Insiel, quali strumenti possono servire a far germogliare delle piccole cose che poi possono diventare un'azienda che offre un servizio di logistica grazie alla piattaforma piuttosto che un'altra start-up turistica? È una bella domanda, è una domanda che mi pongo. Mi corrego, in parte sono anche d'accordo con Nicola, i soldi più che ci sono ci possono essere, però poi, perché tra finanziamenti regionali, europei, eccetera, è un momento positivo in cui lo spazio c'è, però poi com'è dar gambe a queste idee? Io sto seguendo due piccolissime app che non segnalo, ma non peraltro, solo perché sono proprio frutto di intuizione di chi, come Nicola, non aveva una competenza specifica nel digitale, ma che ha avuto un'intuizione e poi ha utilizzato il digitale. A me piace sempre dirlo ai miei operatori, che la tecnologia segue. Non avete niente da inventare, tutto quello di cui avete bisogno già a disposizione da qualche parte è già stato fatto, quindi non ci sono grandi cose da inventare, c'è da applicare bene quella parte di tecnologia. Allora la risposta che mi sentirei di dare è questa. Abbiamo bisogno di veri imprenditori nei nostri territori che riescano a interpretare quelli che sono i cambiamenti. L'ho detto prima, noi continuiamo a rincorrere, ma interpretare i cambiamenti oggi ci può mettere nella condizione di avere le intuizioni per capire che cosa farà il turista domani. Lì io auspico un vero intervento, vero intervento nei profili che noi andiamo a costruire, perché purtroppo la Presidente ha detto una cosa molto corretta. Quando i ragazzi che oggi stanno facendo certi percorsi di studio usciranno, quelle figure professionali non saranno più utili, non serviranno più. Ecco il turismo è solo parzialmente interessato da questa situazione, però faccio sempre l'esempio del mio albergatore o del mio titolare di agenzia di servizi, vendita di servizi. Quindi una volta bastava avere il prodotto, oggi invece tu devi avere tutta una serie di profili che nessuno ti aiuta ad avere. E quindi una competenza in social media marketing per un operatore vuol dire aumentare la vendita attraverso il proprio canale, attraverso il proprio sito web del 2%. Una tecnica in revenue ti vuol dire aumentare la vendita attraverso il tuo canale del 5%. Questa è la realtà. Poi ci sono tutta una serie di altri elementi invece che sono frutto di intuizione. E quindi il concetto di rendere raggruppabile l'esperienza sopra i singoli territori e accessibile in ogni momento ai nostri clienti, ai nostri utenti, è un'ulteriore intuizione. Non so se ho risposto esattamente alla tua domanda. Hai risposto perché hai detto che ci sono gli imprenditori, che è la cosa più difficile. Quindi io concordo con quello che... Taglio se no poi... Sì scusa, scusa. Se ci sono i soldi. I soldi sono una merce, la merce è un prezzo, basta avere i soldi per comprarla perché anche i soldi si comprano e quindi i soldi ce ne sono quanti ne vuoi. Se tu oggi vuoi un milione di euro o un miliardo di euro c'è qualcuno che te li vende e vuole che tu glieli paghi. Quindi i soldi ci sono. Poi è chiaro che i soldi hanno un prezzo e oggi probabilmente quel prezzo è più basso rispetto a qualche anno fa. Se poi invece parliamo di venture capitalismo e tutte queste cose che riguardano le nuove imprese e quant'altro io ritengo, parlo adesso meno di tecnologia ma di iniziative imprenditoriali per esempio nel nostro settore, adesso mi allargo un po', non è solo portualità, è anche logistica e anche altro tipo di cose. Io tante volte vedo che non si conosce abbastanza bene il mercato e quindi si cerca di fare in proprio cose che poi invece si possono risolvere tranquillamente. Una delle cose che avvengono più spesso nel nostro settore è per esempio che qualcuno investe soldi in magazzini, cioè in infrastrutture, in facilities del settore. Quando in quel caso esistono al mondo tantissimi soldi e tantissimi soggetti che sono disponibili a costruire l'infrastruttura per conto tuo, c'è solo da ragionare su quello che è il costo dell'affitto che tu vuoi fare. Ti possono costruire un magazzino di 200.000 metri quadri piuttosto che uno da 5.000. Perché? Perché dietro hanno fondi internazionali che finanziano e che sono ben disponibili a distribuire il loro investimento e quindi a ridurre quello che è l'impatto dal punto di vista del rischio. Quindi soldi ce ne sono. Allora che cosa serve? Fondamentalmente, ed è questo secondo me l'approccio che noi vogliamo dare, un soggetto come un'autorità portuale deve essere quell'elemento che ti aiuta a capire queste cose. Se da me viene un operatore e mi dice voglio fare quell'investimento, gli dico guarda, tienti i soldi e fai qualcos'altro, io ti posso aiutare a trovare quelli che investono al posto tuo e che ti permettono di raggiungere l'obiettivo probabilmente anche con una qualità migliore e investendo meno. Allora, soggetti come questi, soprattutto in Italia, considerate che parliamo sempre di queste benedette piccole e medie imprese, che cercano di recepire quella che è la rivoluzione del mercato, se la studiano, l'analizzano e danno al soggetto più piccolo del porto, non quello che dipende dalla multinazionale, ma il più piccolo del porto, tutta una serie di informazioni, di elementi che gli permettono di essere competitivo, sono l'elemento che serve più che i soldi. Ecco, secondo me servono questi soggetti territoriali che aiutano i sistemi benedetti di piccole e medie imprese che vanno dai distretti industriali ai distretti logistici come può essere un porto, ecco questi soggetti che interpretano la realtà e aiutano anche il più piccolo a entrare in questa realtà. Allora, cerco anch'io di fare un po' il punto della questione, sono più d'accordo con te, secondo me non ci sono soldi, non intesi come capitale a debito, ma come capitale di rischio, capitale di investimento, questo penso che fosse il punto. Mi ricordo l'anno scorso, presentando Stanford, che leggevano i numeri, li rapportavano rispetto ai finanziamenti che aveva l'Università degli Studi di Udine, che ha circa 200 milioni di euro di investimenti all'anno, Stanford ha 5 miliardi di dollari di investimenti l'anno, che derivano per il 95% dai investimenti di privati. Ecco, allora, arrivando alla tua domanda, sicuramente deve cambiare l'ecosistema delle start-up in Italia, permettendo ai investitori esteri di avere l'interesse di investire da noi, di fiscalizzazione, ma anche certezza del diritto, tutta una serie di temi che non riusciamo a approfondire in tre minuti. Sono d'accordo però sul fatto che manchino le persone con le idee, diceva d'avanzo prima, sono molto d'accordo su questo, e infatti chiudendo, la ricetta secondo me che cerco di portare avanti il mio piccolo è partire dalla scuola. Cioè io sono convinto che la scuola sia il punto d'ingresso per gli imprenditori del domani. Quando parlo di scuola, parlo di scuola a tutti i livelli, ovviamente, università, ma anche scuola di altro tipo, cercando di far capire che ci può essere una promessione al rischio, che ci può essere un'attitudine imprenditoriale, e che si può fare in presa anche qui in Italia, in Frulli Venezia Giulia. E devo dire che iniziative come questa, che permettono a ragazzi come d'avanzo di presentare il proprio caso studio, di presentare il proprio caso di successo e dire io ce l'ho fatta, si può fare, ecco, sentire un po' di più il si può fare rispetto al non si può fare, questo secondo me è una buona ricetta. Anche su questo c'è un dibattito enorme, ma ve lo risparmiamo. Grazie, grazie molte a tutti e tre, abbiamo portato uno scenario davvero ampio, abbiamo un veloce, veloce coffee break e poi proseguiamo il pomeriggio. Grazie.